Oggi parliamo di D-Ball. Qual è la cosa che contraddistingue questo strumento? Innanzitutto possiamo dire che è uno strumento che genera un grande impatto neuromuscolare. Perché questo? Proprio per la sua antiefficienza. Cioè, a differenza di quello che avviene con un bilanciere, questo è uno strumento molto scomodo da utilizzare. Il fatto che sia appunto così scomodo va a gravare in maniera particolare ogni volta che viene appunto utilizzato. È ancora uno strumento probabilmente non molto diffuso negli allenamenti di crossfit. Probabilmente perché è ancora un po' troppo sottovalutato. Invece è un attrezzo molto molto valido che consiglio vivamente in ogni routine di allenamento di qualità. Ti aspettiamo nelle nostre classi per imparare a utilizzare questo, la D-Ball e tanti altri strumenti. Grazie. 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 Grazie.